Rinnovo del contratto di settore e spunti al governo Renzi per migliorare la riforma della scuola. Questi temi che la Cisla ha messo al centro delle assemblee e convocate in 275 istituti scolastici del Barese nella giornata del 29 ottobre. Un caleidoscopio di interventi e proposte dal basso per sollecitare il governo ad aprire una finestra di confronto sinora sempre negata al mondo della scuola persino con lo sgombero delle iniziative di protesta degli studenti. Speriamo che in tutte le scuole vengano fuori dei documenti che vengono trasmessi al ministero dove noi raccontiamo quella che è la scuola reale e da lì vogliamo partire e noi come sindacato vogliamo portarla come risorsa questa questione. Il sindacato dà appuntamento all'8 novembre quando a Roma si terrà la manifestazione nazionale per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego che interessa da vicino il mondo degli operatori scolastici. Il pubblico impiego è la più grossa azienda di questa nazione non la si può maltrattare è quell'azienda che ti permette di crescere di svilupparti bene noi diciamo in tutte le scuole che tutti i lavoratori parteciperanno in massa perché abbiamo un sacco delle decisioni da Bari già abbiamo organizzato tre pullman solo come CISL altri come altre Cicle in una decina di pullman sono già pronti per andare a Roma per portare l'idea di sindacato sindacato risorsa per la buona scuola di questo paese